Via col terzo round di... il torneo battaglie supremo contro Runo Ah, Runo qui sarà molto molto tosta, oltre che ad avere la tigrerra evoluta Avrà anche... beh... un vantaggio enorme dato che questo è il torneo house E l'estato di tigrerra lì intanto Allora, 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 allora Lava tigrerra, che è l'evoluzione di tigrerra, che c'ha adesso Io ce l'avevo anche... no, c'ho il giocattolo, sì Però non l'ho di attributo house, ce l'ho Pyrus Allora, andiamo, niente Forza Che tortura E poi ragazzi, quello che verrà dopo sto torneo, perché dopo sto torneo c'è altro Niente in confronto, mamma mia Rotola? Scemo Oddio No, 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 qui, ecco Va a finire all'infinito qua, credo Eh, appunto, no, dai Bene, almeno sei riuscito a posizionare Allora, vi dico fin da subito che sarà rarissimo che gli avversari non riusciranno a posizionare il proprio l'aquagan Ce la faranno sempre Ecco allora Lama tigrerra Eh, guardate, infatti, vedete Il babagan di runo passa attraverso i blocchi senza venire Ehm Scaraventato Oh, posizionamento Wow È il mio turno Direi di vincere una carta portale Oppure facciamo con laser man Non lo so Non lo so No, sì, lanciamo monarus e vinciamo con un doppio posizionamento Così poi l'uno fa un altro dopo posizionamento e non ha più tigrerra, dai Eh, mi spiace Leonidas, però, dai Va così, dai Turno del giocatore 2 Ah, mette una carta portale, eh Perché vuoi che io ti affronto tigrerra, eh Ma tigrerra, io sono Sono anche capace di fartela rimanere lì fino alla fine, guarda Ah, doppio posizionamento Sei un po' sbagliata, eh Ok, vinciamo Quello che vedremmo Quello che staremo a vedere Allora Mi rimane solo laser man Siamo su una carta di runo, vabbè Credo sia quella di tigrerra No, quella di tigrerra è quella dove ha messo tigrerra Quest'anno lo so cos'è Speriamo non sia una bronzo che inverte i livelli Se no, ciao Vai No, maledetto Maledetto Come al solito manchi il tappetino di Madonna E dai Madonna, dai No Madonna, ce l'ha fatta giusto in tempo, guarda Madonna santa Sti cubi di merda In cui Bagua Naos sono immuni poi Meno male, vai Oh, Haos Monarus Ciao Va bene, allora siamo su una delle sue carte portali Per cui Ai, ai, ai Laserman E chi? Sì, no L'avevo già detto Monarus Eh, no, ci avevo visto giusto invece Guardate Blade tigrerra Ma niente da fare Non hai più blade tigrerra Mi dispiace Te l'ho fatta perdere di proposito Allora, usi una carta abilità? Sì Direi di andare con doppio input ventus Vai Ah, è da ruotare il simbolo Che palle Mamma mia Ecco, usa la carta abilità La luce Ma se il Bagua è un avversario G più alto Allora il tuo Bagua non ottiene potere Madonna Oh Sempre le condizioni ideali Eh, ci hanno per le loro carte di merda Dai, ruota Mi tocca Mi tocca Mi tocca Mi tocca Guarda se non mi tocca Oh Mi tocca proprio usarlo Il doppio input ventus Vai Va, ventus Eh, vai Con doppio input non hai speranze E anche questa No, no, no Aspettate, siamo al secondo rando Comunque Anche questa carta portale Aggiudicata Adesso dobbiamo lanciare le carte Perché non ne rimangono sul terreno Madò E a runo Torna anche Blade Tigrera La sua evoluzione Mamma mia Ora, sperando che non si posizioni sulla mia Andiamo Mi tocca Beh, andiamo con Leonidas Dai Non ho più la carta portale Però pur sempre l'abilità Andiamo Sì, vai Consiglio di non andare sui tappetini Sui tappetini elettrici Perché sennò i cubi Vi sballottano Vi teletrasportano Fino a farvi perdere tutto il turno Mato Ecco, Blade Tigrera Lanciato infatti Eh, no Non vai a posizionare A potenziare No, 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 no Grazie al cielo È caduto sulla sua carta portale Adesso io vinco con un doppio posizionamento Eh, mi dispiace Belli, ma Io sono per la vittoria facile e comoda No, aspetta Metti laser man per sicurezza Perché così abbiamo un po' di potenza Se sbaglio a posizionarmi Vai Dai Vai, doppio posizionamento Bene E abbiamo vinto Ale Alla grande Vittoria Vittoria dolce Meritata Vittoria Vai Cazzo, ci abbiamo messo meno a vincere sto round Che strano Oppure ho lasciato a vincere a lei una carta portale Vabbè Bonus vittoria Bogdan sconfitto Ah, è solo una battaglia abbiamo fatto Eh sì, perché ho vinto due carte con un doppio posizionamento Abbiamo fatto solo una battaglia qui in questo round Vabbè Va benissimo così Salviamo la partita E niente ragazzi A questo punto noi ci rivediamo alla prossima con Preparami per la prossima battaglia Ecco, ci rivediamo alla prossima con il prossimo round Sì, la prossima col prossimo round Ovviamente Allora Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Ci rivediamo alla prossima con il round contro Sean Ciao